Un bilancio è molto positivo, è stata un'edizione molto faticosa, anche molto più grande rispetto al passato, però i risultati ci sono stati, non abbiamo mai avuto così tanti riscontri, anche riempimenti da parte degli spettatori ancora oggi che ci fermano per dirci quanto gli è piaciuto e gli ospiti sono stati molto soddisfatti. Gli spettatori sono aumentati perché sono aumentate le proiezioni ed è aumentata la frequenza media, di media siamo comunque sui 700 spettatori al giorno, oltre 4.000 studenti, anche la parte delle scuole è stata una di quelle che ha avuto un espluato quest'anno perché sono stati davvero tantissimi gli studenti, quindi si rafforza anche la dimensione educativa e si rafforza il rapporto con le scuole perché abbiamo avuto studenti che hanno fatto anche dei corti per il trailer ufficiale del festival, abbiamo collaborato con Cinema e Scuola, quindi la dimensione educativa sicuramente è stata un attore in più che abbiamo aggiunto quest'anno e poi anche a livello di spettatori abbiamo avuto espluato con Ascanio Celestini e con Max Nartari e questo è stato molto bello, quindi abbiamo visto il Cityplex anche pieno come non accadeva da qualche anno e poi ripeto la frequenza media è stata molto alta e anche l'apprezzamento nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto anche dal punto di vista tecnico a causa ovviamente di un'organizzazione in cui il budget continua a essere abbastanza basso.